Amici sono arrivata a Lavana, sto bene, 18 ore di viaggio, non mi ricordo neanche più come mi chiamo, però sono Lavana. Precisamente mi trovo all'hotel nazionale Mirate Mirate, un poco se si puoi demirare, là sta il malecone. L'hotel nazionale è un posto veramente incantevole, passerò qui soltanto la prima notte, la mia stanza è vista mare, mi hanno trattato benissimo. Notate che tira un pochino di vento, ci hanno infatti detto che da oggi è iniziato un po' un temporale, che forse non durerà pochissimo, però se mi seguite lo potrete sapere. E tra l'altro ci hanno anche detto che nel weekend ci sarà il carnevale qui a Lavana, che sarà una festa meravigliosa. Io per ora vi saluto con il mio moito di benvenito, gentilmente offerto dall'hotel. Besos para todos, adiós.